Twiga, come tutti i brand nel nostro gruppo di luxury e hospitality, esprime un certo stile di vita e dunque l'associazione e la sinergia con brand selezionati nel mondo della moda, dell'arte, del wellness e del beauty rientrano nelle nostre strategie. Twiga, soprattutto il Twiga Beach di Forte dei Marmi, vive un'estate a 360 gradi dove c'è spiaggia, attività fisica, sole, raccoppiata con un marchio del beauty di qualità come luxury ci è piaciuta immensamente e sviluppare insieme una linea di solari innovativi e preziosi è stato a questo punto naturale. Il packaging che poi potete vedere è molto elegante ma abbiamo pensato anche all'aspetto pratico inserendo nella linea un kit di viaggio molto comodo e utile e perfetto da tenere sempre in valigia o in borsetta perché il kit è veramente piccolo. Eccolo qua. Ciao a tutti!